Allora rivediamo queste immagini dell'arrivo dell'ex premier Letta con Bersani già dentro l'aula e l'abbraccio. Marco Travaglio, tutto questo ha aiutato o messo in difficoltà Matteo Renzi? Dentro il Parlamento sicuramente si sarà sentito rubare la scena, almeno per qualche minuto, da due che sono gli sconfitti. Mai dire mai, ma in questo momento sono i due sconfitti, mentre Renzi è seduto là dove avrebbe dovuto sedere un anno fa a Bersani, dove ha seduto per quasi dieci mesi Enrico Letta e adesso stanno lì ad abbracciarsi ai margini. Però il fatto che sicuramente la casta ha riconosciuto in loro i suoi idoli, mentre Renzi è considerato un outsider, un estraneo, un alieno. Non so fuori dal palazzo questa immagine se ha dato la stessa impressione che ha dato dentro, perché è chiaro che dentro il palazzo si annusano, si riconoscono fra di loro, si applaudono, si sentono fra di loro, mentre lui lo sentono un'altra roba. Fuori credo che abbia giovato a Renzi quella scena, cioè il fatto che lui non fosse lì ad abbracciare, ho visto che c'era anche Rosi Bindi, insomma erano personaggi di un'altra epoca, erano i rottamati. Bene, per Severnini è stata una sfida a Renzi, oppure è anche un modo per dire che il PD è unito e resta unito? Ci sono le lacrime di coccodrillo, non so, ci sono gli applausi di coccodrillo, anche perché i coccodrilli avrebbero difficoltà proprio tecniche ad applaudire, però diciamo sì, Letta è stato scaricato dal partito in un modo che dire ingeneroso è dire poco, poi adesso ne parleremo, i perché, i per come, Renzi. Anche perché bisogna ricordare, scusami, che Bersani è tornato dopo che ha avuto il malore in suo gennaio. Questo è importantissimo ed è fondamentale, però io pensavo... Un applauso corale del Parlamento. E' meritato perché è quando una persona subisce una prova del genere, però il dato politico è che quello che è stato fatto a Letta non è bello e adesso erano tutti lì a applaudirlo. Però quello, sono d'accordo con Marco, tutto questo avvantaggerà Renzi, come lo avvantaggia la reazione che c'è stata su quasi tutti i giornali ieri alla sua giornata in Senato. Quasi una reazione infastidita, ma questo parla con le mani in tasca, ma questo qui fa un comizio. Io ho ascoltato, girando Milano, Crema, guardavo Roma e poi ascoltavo. E secondo me tutto questo, quando noi giornalisti diciamo, ma cosa fa, ma non è... Purtroppo l'Italia passa dalla retorica, non solo nei Parlamenti, a questo stile forse fin troppo disinvolto. Ma lo aiuta e lui che è fiorentino e quindi furbo, l'ha capito. E' così Marco? Pensi che Enrico Letta non si è seduto nei banchi del Partito Democratico perché sta meditando di lasciare il suo partito? Beh, credo che sia uno dei pensieri che lo attraversano in questo momento. L'altro giorno ha detto che ha bisogno di tempo per pensare. Nel suo profilo Facebook, credo si dica così, io mi scuso per la mia totale ignoranza in questa materia, ma credo che sia scomparsa la parola democratico di fianco, l'aggettivo democratico di fianco al sostantivo deputato. Oggi Bersani ha dichiarato di essere andato in Parlamento apposta perché c'era il ritorno di Letta. E per votare la fiducia a Matteo Renzi. Esattamente, e per votare la fiducia a Matteo Renzi e per naturalmente fare delle battute critiche subito, dicendo che il governo Renzi non ha fra le sue doti principali la modestia. Quindi per riprendere la sua attività politica, certamente le critiche che sono venute a Renzi per le mani in tasca o per la prolissità del discorso in conseguenza del fatto che ha parlato a braccio e non si era scritto niente, oppure perché non ha fatto i soliti salamelecchi a Napolitano, o perché non ha parlato del mezzogiorno. Il fatto che non soggiaccia i rituali tradizionali sono critiche ridicole, ovviamente, che vengono dalla politica e quindi vengono anche dal giornalismo che molto spesso è figlio di quella politica e anche esso guarda Renzi come un alieno. Mentre invece credo che siano le cose per le quali Renzi sta più simpatico alla gente a cui è simpatico. Mi pare anche che siano servite a nascondere invece dei problemi piuttosto seri che nascono dal discorso che ha fatto ieri al Senato e oggi alla Camera, che forse sono un po' più importanti delle mani in tasca e che attengono invece a quello che lui vuole fare e che ancora resta piuttosto nebuloso. Le mani in tasca, come le definisce Travaglio, quindi questa assenza di cosiddetto bon ton istituzionale, che forse in questo caso è anche semplicemente bon ton, che quando si parla non si tengono le mani in tasca. Beppe Severnini, tu pensi che alla fine Renzi debba temere di più il suo stesso partito della opposizione, quella conclamata di Grillo e di Berlusconi oppure adesso si placherà tutto, ha ottenuto la fiducia e tutti saranno compatti per cercare di fare in modo che questo governo funzioni, che è quello di cui comunque il Paese ha bisogno? Io penso che Matteo Renzi debba temere una sola cosa, che quello che ha detto in Senato, che venga considerato l'ennesimo annuncio. Questo Paese è stordito dagli annunci, non ne possiamo più, io credo tutti. Allora, lo sanno tutti che i problemi sono il fisco, la giustizia, la pubblica amministrazione, il lavoro soprattutto dei ragazzi. Non è che ci vuole Einstein. Lui l'ha ripetuto, l'ha ripetuto anche con molto brio e ha anche ammesso che se lui non combinerà qualcosa, non farà, voce del verbo fare, non dire, fare qualcosa, è finito. È finito noi e finiamo nei guai tutti. Gli unici che festeggerebbero probabilmente sarebbero Grillo e i Cinque Stelle, la cui vera strategia è che gli altri siano talmente suicidi da sbagliare ancora una volta e poi allora a quel punto è chiaro, avranno la maggioranza e io cambio pianeta. Tu cambia pianeta perché? No, ma perché li ho visti in Parlamento in questi giorni, io con le battute figlio di Troica, poi brutte oltretutto, le battute non fai molto. Allora, io credo che non sarebbero in grado di governare un Paese, lo dico con grande serenità. Marco Travaglio, tu sei d'accordo e comunque oggi Renzi ha cercato di aprire un canale con il vice presidente della Camera di Maio mandando questo scambio di bigliettini. È un corteggiamento che andrà a buon fine? Un sistema un po' ingenuo, infatti sono finiti tutti pubblicati immediatamente. Beh, ma non credo che Renzi pensasse che non sarebbero finiti pubblicati. Ma non lo so, io penso che bisogna giudicare le persone a mano a mano che fanno le cose. Quindi giudicare Renzi per come si veste, per come cammina, per come parla, fa abbastanza ridere. Era giusto giudicare la sua squadra di governo e secondo me era molto deludente rispetto alle attese di novità. Che cos'era la cosa più deludente secondo te del governo Renzi? Beh, non c'è nessun ministro che faccia pensare e dice, toh, guarda, è arrivato Renzi, non ce n'è nemmeno uno. Non ce n'è nemmeno uno. Cioè, una figura che ti dica, a cavolo, questo adesso farà sfracelli in questo settore. No? Aveva avuto un'idea geniale Renzi, che era ancora Gratteri alla giustizia. Quello è un caterpillar, sarebbe potuto diventare il Renzi della giustizia, perché è uno che non fa parte di correnti, è uno proprio efficientissimo, bravissimo, che l'ha stoppato Napolitano, con delle scuse francamente ridicole. e tolto quello sai che cosa c'è? Ci sono i ministri che gli ha imposto Napolitano, quello che gli ha imposto l'Europa, quelli che gli hanno imposto le lobby, ce ne sono sei che sono gli stessi del governo Letta e alla fine l'unico cambiamento vero è il Presidente del Consiglio. E il fatto che ci sono metà donne, io penso che questo sia comunque un elemento importante. Però evitiamo, è bello, però evitiamo la retorica, insomma. Io sono d'accordo con la Sarzanini quando dice facciamo l'analisi del sangue alla competenza di tutti e non solo delle donne, però facciamola anche alle donne. Cominciamo dai numeri. Anch'io sono rimasto un po' sorpreso dal governo, ho dato su Twitter, che lui finge di non essere pratico di social network, ma su Twitter, ma se hai una valanga di follower, sono lì per caso. Ma perché c'è una persona che ogni tanto linka i miei pezzi, ma se io non so come ci si entra, lo confesso, adesso imparerò. Non credeteli. Comunque, io ho fatto su Twitter la pagellina, ho detto sfratto a Letta, voto 4, scelta ministri, voto 6, propositi, voto 8, perché io davvero non da oggi penso che lui abbia dei buoni propositi, delle buone idee, fegato 10. E il 6 ha la scelta dei ministri, io faccio anche i nomi perché non ho imbarazzo. Fegato 10 perché ha avuto il fegato di far fuori Enrico Letta? No, fegato 10 perché mettersi in quelle condizioni, anche con l'impopolarità di questo sfratto, mettersi e sapere che lui nei prossimi sei mesi, un anno, si gioca tutto, si gioca la carriera, lui va a fare un altro mestiere se lui buca qua. Alcuni ministri, allora, Ministero degli Esteri, è un tema che bazzico il mondo da 30 anni e è un mestiere complicato. Avevamo un ministro adatto, Chieremma Bonino, gli erano fatto baffare. Non c'è nulla con la nuova, però è difficile. Ministero della Giustizia, non sono tanto d'accordo con Marco, io credo Gratteri è bravissimo, simpatico, sveglio, scrive pure bene. Forse però che un magistrato vada passi dal giudiziario all'esecutivo, come quando passa dal giudiziario al legislativo, quindi diventa parlamentare, a me non piace molto. Però comunque mandarci Orlando è complicato, sono questioni tecniche, qui invece Marco ne sa molto più di me, di giustizia. Allora, tra la Guidi e sentire Gasparli che parla di conflitti di interessi è esilarante, la trovo una cosa meravigliosa. Però non c'è dubbio che la ministra Guidi abbia qualche conflitto di interessi, perché le cose che produce in famiglia lei lavora con lo Stato. Insomma, forse qualcuno qualcosa di più poteva fare e doveva fare. Ecco, Travaglio, tu hai scritto oggi che Renzi è il banal grande, frivolo e superficiale, però è vero che se fa la metà delle cose che promette l'Italia cambia davvero. Grazie a tutti.